Buongiorno a tutti ragazzi, buongiorno a questo nuovo video, oggi siamo qui trovati nel capitolo 5 di Fortnite e oggi come vedete dal titolo andremo a giocare con la nuova pistola che è veramente fortissima, l'abbiamo provata in live, infatti vi metterò anche qualche clip in questo video, ma è veramente fortissima, siccome è anche un po' rara da trovare, ho già registrato delle clip che vi metterò poi nel corso del video. Prima di iniziare iscrivetevi al canale, iscrivetevi al canale, lasciate un bel mi piace e condividete il video con tutti i vostri amici e nei commenti fate inserire se avete già provato questa pistola e se vi piace. Ora iniziamo. Schiatta va? La scappa, scappa. No, 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 io ci sono, sono carico. Quello, no. Guarda qua, godo. Oh, finalmente. Sì, è mezzorissima. Ok, anche me ne frega, no. Ehi, bello mio, bello, ehi, bello. Vai, schiatta va? Hai visto come è arrivato. Non è fortissimo, eh. No, no, no. Ah, ecco, ce n'è un altro. Ehi, ce ne sono due. Ok. Ragazzi, siamo carichi operativi. Abbiamo tutto. No, eh no. Tu però. Vedete quanto è forte, ragazzi. Grazie, è fortissimo. Cioè, gli ha sparato tipo 80 colpi. 90 colpi. Allora, c'ho anche l'amuleto, eh, che mi recupera vita, però è comunque strautile. No, questo non mi dà. Niente, ragazzi, non mi ha curato. E vabbè, adesso ti rebutto. Anzi, prima mi prendo il cavo. Perché il cavo... Oh, il tartaruga ninja. Boom. Scannerizzazione. Sono avvenuto lo scanner che c'era insieme a un dio. Entriamo. Carichi. Operativi. C'ho tre di vita. Però qua abbiamo robe succolenti. C'è del vino. Buono. Buono. Raga, i cavo sono bellissimi, comunque. Cioè, sono favolosi. Ora mi curo un po'. No, c'è un player. No, aspetta. Aspetta. No, ma cosa danno le shield? Usa le bende, fra. Ma che le bende? Fidati, fra. Sono forti, questo sito. Aspetta. Mi sembra che ti ponisci in pulizia, sì. Ah, sì, infatti. Ok. Sei letteralmente immortale. Va bene, va bene. Siamo carichi, raga. Siamo carichi. Questa pistola è troppo forte. Sparano. Eh, fra questo lo fai. Ok. È proprio bella. Mi dà anche una sensazione di... Sì, ha delle belle animazioni. Di protezione. Ok. Letteralmente più. No, è veramente fortissima sta roba. La nerferanno sicuro. Perché poi, raga, ti devono sparare un po'. Ti devono sparare un po' prima che ti tolgono lo scudo. Quindi, è veramente troppo forte sta roba. Questa la nerferanno sicuro. Comunque assurdo che in ogni capitolo c'è una pistoletta forte. Ogni inizio capitolo. Assurdo. Cioè, è veramente assurdo. Un anno fa è uscito qua un video con la pistola tattica. No, c'è anche la pistola quella... Cioè, è la stessa pistola comunque. È la stessa, solo che non c'è lo scudo. Che anche quella è fortissima comunque. Che tra l'altro è qua. Guardala. No, non è vero. Se mi ributti qua così prendo anche io la pistola con lo scudo. E adesso ti ributto. In teoria, raga, non c'è più nessuno. In teoria. Raga, ma a parte gli scherzi. Ma sta città, ma quanto è bella. Guardate che bella. Proprio la neve che cade. Un po' di nebbia. Un po' di... Tutta la neve sopra i cespugli. Cespugli così garena. È una città bellissima questa. Peccato che è piccola. Ancora la mappa non l'ho esplorata tutta. Però troveremo presso un luogo dove atterreremo sempre. Che sarà il mio nuovo luogo preferito. Sicuramente sarà nella neve. Perché io adoro il luogo nella neve e c'è un players. Vabbè ragazzi. Cioè, allora. Posso essere d'accordo con chi pensa che non siano player fortissimi. Sono d'accordo. Però se siete d'accordo che questa è una pistola fortissima. Provatela a finire il città in tempo. Perché secondo me, ve lo dico io, la nerfano. Però, boh. C'è della gentaglia. Ah, ma sono dei bot. Che bot sono? Ah, con la card. Bincolosa. Ah, la Tesla. Ah, perché è tornata la Tesla. Che ti dice la prossima safe. C'è un player a terra, ma vuol dire che c'è altra gente per forza. Vieni, sali sulla jeeps. Aspetta. La gente è sopra la montagna. Eh, infatti vorrei atterrarci. In dubbio la card per la Tesla la prende. Eh, valla a prendere dietro di te. Io vado a pillar i player. Tanto li chilo easy. Ah, mi sparano però. L'ha detto, eh. Sì, ovvio. Oh, ce l'ha anche lui però. Ce l'ha anche lui la pistoletta. No, da anche da me c'è giù. Aspetta, questo lo push. No, questo lo push. E lo killo anche. Aspetta. Eh, vieni un attimo. Questi qua ne sanno, eh. Sério? Più o meno. La pistola è storta comunque. Cioè, è da lontano un po'. Sì, è da lontano un po' smira, però vabbè. Però vabbè, è normale. Cioè, ci sono. Perché ci lo è qualcosa di... No. Sono morti entrambi. Ma perché li dovete fanno killare? Spara, li spari. Sono morti entrambi, te lo giuro. Ci hanno veramente pochissima vita. È veloce che sto per morire. La banana è un po' più vita. L'altro è morto. Non ho sciolto. E niente. Io ho tutto scarico. Quanto ci mette, Fra? Che lungo da caricare, eh. Eh, sì. Dovamo fare la scavalcata sui muri? Vedi che glielo... Fra, vai la scavalcata sui muri. Ho qui quel pompo, graffè. Bisogna fare anche la lì. Oh, ma è una cesta... È una cesta... Guarda qui. Ok. Aspetta, aspetta. Ma quanto è bello. Ma è bellissimo. Ma Fra è bellissimo. Ma mi sto divertendo un botto. Sta roba qua della pistola è bellissima. Allo scudo con la pistola. È bellissimo. È troppo divertente, Fra. È una cosa favolosa. Ah, poi è OP, Fra, comunque. Che tu stai dicendo è troppo divertente. È davvero bello, per favore. È divertentissima sta roba qua. No, no. Aiuto. Io, no. Poi magari sicuramente si... Sì, poi... Momenti morti. Certo. E quello è l'unico problema che mi preoccupa, però... Come anche nella scorsa season 1. Però almeno fa... Godiamoci questi primi giorni. Sì, almeno questo, sì. No, ma è bellissima sta roba qua della pistola, te lo giuro. Fra, ci sono un sacco di video da fare, anche. Eh, lo so. Per sfondere armi davvero più. Fra, guarda che non muori, perché c'hai il sovrascudo e le medaglie. Eh, esatto, c'ho i medaglioni. Sei immortale. E ti posso dire una cosa? Aspetta, aspetta, aspetta. Quelli... Ma... Morto, ok. Quelle Klinger, fra, sono... Le Klinger sono OP. Andiamo al rampo. Anzi, mi prendo il medic, non si sa mai. Ma non c'è un'arma, vecchia? Sono tutte nuove. È meglio, meglio. Io l'ho sempre detto, ragazzi. Meglio la novità. Sì, sì, ma... Mancano due player. Due team, due contro uno. Dove possono essere questi? Questa, fra, è una partita leggendaria. No, fra, è bellissima, te lo giuro. Questa... Questa cos'è? Legendaria? Sì. L'hai salvata, fra? Sì, sì, ma sto ancora io, eh. Sto ancora andando. Fra, armi mitiche, loot favoloso, 13 kill, uno è mo... No, ma muoiono tutti la tempesta, ragazzi. La vinciamo così. No, volevo fare l'ultima kill, dai. Oh, ma fra, ma vai in quella cosa strana, metti tipo un medaglione. È un altro amuleto. Vai, prenderlo. È l'amuleto dei tipi che ho killato prima. Fra, sei amuleti. No, ma dov'è? Sopra. No, non è sopra, è impossibile. È qua. Qua dietro è l'amuleto. Eccolo. Fra, tre amuleti nella stessa partita? L'area della tua posizione si è ridotta. Ui. No. Fra, perché non mi corre? Guarda che corri più lento. No, ma non mi correva, ero bloccato. Fra, faccio il medico. No, non ce la faccio a farmi, devo andare in sé. Sì, fra, tanto ti cura nel tempo. Hai ragione. Posso morire, mi è bellissima sta roba, eh? Ma no, allora, se era fuori di sé, era già morto, comunque. Chi? Io? Tu? Il tipo. No, no, sì, era morto. Dov'è che è? A parte, non sono meglio. No, ma non può essere... C'è una jump così pezzata, così bella. Mi piace. Ragazzi, vinto. Comunque, anche se volevo fare un'ultima kill, però partita epica, raga. Che partita. Bellissima, comunque. Tutte belle, raga. Mi sto divertendo veramente un bot. Ho chiuso uno. Arrivo, Fra. Lo farà sull'altra parte. Morto! Con lo scudo. No, raga. Wow. Vittoria. La prima partita del capitolo 5. Prima vittoria reale che è partita. Vinto. Ci aspetta un gran capitolo 5, secondo me. Mamma mia, mamma mia. Abbiamo perso prima, però vi ho lasciato anche delle clip fatti live, dove abbiamo anche vinto con una pistoletta, che è fortissima. Fatemi sapere nei commenti se anche a voi piace. Iscrivetevi al canale, trovate la campanella lì, lasciate un bel mi piace. Condividete il video con tutti i nostri amici. Noi ci becchiamo in un prossimo video.